Protestano i lavoratori di Mercatone 1 di San Buceto, una storia che inizia il 15 giugno scorso, data in cui arriva la comunicazione di sospensione. Siamo 30 dipendenti assunti, più l'indotto stiamo parlando di 40 famiglie che sono a casa. Noi attualmente siamo in cassa integrazione, però ci preme precisare che a noi interessa lavorare, come abbiamo sempre fatto, con dei grossi risultati, perché era una bella realtà quella di San Buceto. Stessa sorte era toccata al punto vendita di Pineto che invece, solo 30 giorni dopo, aveva visto la riapertura e il reintegro dei suoi lavoratori. Per i lavoratori di San Buceto invece ancora nessuna notizia, si tratta di 30 persone. I sindacati sono stati vicino a noi fino alla sospensione, dopodiché anche loro sono in attesa di comunicazioni dal ministero e dall'azienda, perché la nostra azienda è stata commissariata dal 7 aprile. Si trattava di una difficoltà economica secondo voi? No, si trattava di una ristrutturazione aziendale dovuta ad altri problemi che comunque non sono stati causati sicuramente dai dipendenti che hanno sempre onestamente lavorato. Oggi l'appello dei lavoratori sospesi è quello di ottenere lo stesso sostegno ottenuto per i colleghi di Pineto e per questo si rivolgono al vicepresidente della regione Giovanni Lolli, che si era già adoperato per la riapertura di Pineto. Dal 15 giugno noi siamo sospesi, nessuno si è venuto a confrontare con noi, quindi al momento non sappiamo la realtà nostra che fine avrà e vorremmo chiedere all'assessore Lolli se gentilmente si occupa anche di noi, visto che vorremmo ricordare che è anche San Buceto in Abruzzo.